Hai mai sentito parlare dell'integratore Nutrilite Omega 3? È un integratore alimentare che contiene acidi grassi Omega 3, EPA e DHA, che non sono prodotti dal corpo e devono essere integrati con la tua alimentazione. Sostengono il nostro cervello, la vista e il cuore. Una delle principali fonti di acidi grassi Omega 3 è l'olio di pesce azzurro. Se la tua dieta non prevede regolarmente una o due porzioni di pesce alla settimana, potresti trarre beneficio dall'integratore alimentare complesso Omega 3 Nutrilite. Selezioniamo con cura i nostri ingredienti e la loro fonte. Usiamo metodi sostenibili per sviluppare prodotti di alta qualità. Abbiamo scelto questi pesci perché si trovano più in basso nella catena alimentare e quindi hanno un'alta concentrazione di acidi grassi Omega 3 e meno contaminanti causati dal bioaccumulo, come i metalli pesanti. Quando sono esposti all'ossigeno, gli acidi grassi Omega 3 cominciano a indebolirsi e a rompersi. Per evitarlo, aggiungiamo la vitamina E e li incapsuliamo entro 72 ore dalla lavorazione. Tutti i processi produttivi avvengono sotto vuoto per limitare l'esposizione a luce e aria. Per garantire l'alta qualità dei nostri prodotti, ne controlliamo l'intero processo produttivo, dal mare all'integratore. Da oltre 80 anni, il marchio Nutrilite combina il meglio della natura alla ricerca più avanzata per realizzare prodotti pensati per te.